Guido Guidesi, la Lega Nord presenta alla Camera dei Deputati un progetto di legge per sopprimere AGEA, perché? Per un semplicissimo motivo, AGEA è un'agenzia che fa riferimento a tutto il territorio nazionale e si occupa di erogazione dei contributi di agricoltura. Non possiamo, è ora di smetterla, di pensare che l'agricoltura in questo paese sia uguale e abbia le stesse priorità. Ci sono territori morfologicamente diversi, per cui tipi di agricoltura diverse, specializzazioni diverse sui singoli territori. Noi abbiamo deciso di presentare un progetto di legge per liquidare AGEA, facendo dei dipartimenti interregionali che si occuperebbero delle stesse cose, ma con una sensibilità territoriale, per cui maggiormente rispondente all'esigenza del territorio, dell'agricoltura e degli agricoltori. Ci faccio un esempio. Un esempio semplicissimo, non è che possiamo pensare che le esigenze dell'agricoltura italiana passino dagli agrumiti pugliesi. Le esigenze dell'agricoltura italiana per noi sono alcune, per esempio gli allevatori e alcune coltivazioni, per i pugliesi sono altre. Non possiamo continuare a trattare l'agricoltura allo stesso modo su tutto il territorio nazionale, perché poi rischiamo, dando priorità ad alcune specializzazioni, di dare priorità ad alcuni territori. Siccome tutti i territori devono avere le stesse possibilità, noi mettiamo a disposizione dei territori, i dipartimenti interregionali che si occuperanno di erogare servizi e contributi direttamente alle priorità territoriali.